E il ponte sul fiume Raiale a Paganica finalmente dopo quattro anni torna percorribile. Si tratta di un'arteria, questa molto importante di collegamento nella popolosa frazione e la chiusura ha provocato di fatto anche qualche problema alla viabilità. Poi il tratto è molto importante perché si ricongiunge poi con lo splendido sentiero della Madonna d'Appari. Diciamo che ci sono state tante polemiche che hanno caratterizzato questi ultimi mesi e i cittadini ultimamente quando c'è stata l'ultima nevicata avevano forzato anche un po' la situazione tornando almeno a percorrerlo a piedi. Ora è fruibile pure per le automobili. Il ponte sul Raiale del quale Reteotto si è occupato più volte è stato riaperto ma le polemiche ci sono state comunque. L'iter per la riapertura del ponte è durato quattro anni, nessuna inaugurazione, tagli del nastro in questo caso. Il ponte fu chiuso nel 2018 dopo il crollo del ponte Morandi a Genova per ragioni di sicurezza perché nella determina si leggeva chiaramente che c'era uno stato diffuso di degrado, 400.000 euro di lavori per il ripristino. In mezzo a questo non sono mancate le polemiche da parte del PD e del segretario del circolo locale Deborah Palmerini che si chiede se i collaudi siano stati fatti di contro. L'ex assessora all'urbanistica Daniele Ferella, che è proprio di Paganica, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dicendo che tutti i certificati ci sono, che è vero che ci sono stati dei ritardi ma non dovuti alla politica, affermando che i soldi dei lavori furono stanziati dopo la chiusura. La certezza è che la riapertura del ponte è molto importante per la viabilità locale della popolosa frazione.